ok siamo qua per roberto ciao elena ciao ciao a tutti conto da 51 e ti connetti maggiormente roberto 5 4 3 2 1 dimmi se lo vedi e come lo vedi allora vedo che lui che è vestito tipo da come harry potter come se fosse harry potter con un cilindro e che fa varie cose con una bacchetta a mano sposta cose animali oggetti fa luci e mi dice vedi qua io posso fare tutto quello che voglio e qui posso realizzarmi ti dà l'autorizzazione se è una vita precedente o è un modo di presentarsi è un modo di presentarsi dove lui mi vuole dire che quando entra nello schermo si sente protetto perché può fare quello che vuole senza essere fermato e bloccato ok nome del progetto riguardante roberto annullamento data d'inizio bene circa sei anni fa ok nome del progetto prima di questo incanalamento quindi da zero a sei anni fa se nome finale del progetto se roberto dovesse finire la sua vita a 100 anni ma 100 anni quale sarebbe il nome del suo progetto mi dice stiramento ma l'immagine associata al nome è come se roberto vivesse sempre sdraiato immobile quindi ancora peggio dell'annullamento no ok roberto cloni se quanti e dove uno volo vedo tipo tra la polonia e la russia potrebbe essere uno di quei piccoli paesi ci sono tre paesi vicino mi ricordano lituania storia storia un altro e lì è uguale lui è donna e uomo è uomo capelli lunghi capelli corti capelli non lunghi ricci ma un po più corti e slavo come tipologia non lo vedo tipo inglese di origine inglese che si è trasferito lì ed è lo vedo di me nel senso che agisce per annientare le persone intorno quindi riesce a manipolare le persone intorno facendogli abbassare l'energia e annientandole questo clone se fa fa livello pratico e concreto nella matrix quello che fanno i videogiochi a ok ok ecco il videogioca roberto appassionato di videogiochi i videogiochi annullano la persona si sono pensati e progettati per se assolutamente questo scopo si proprio a livello energetico mandano degli impulsi che va a mano ti rendendoti dipendente e mandando dei messaggi subliminali fanno sì che le tue vibrazioni si abbassano e a un certo punto viene agganciato e quindi puoi sopravvivere tra virgolette solo prendendo quegli impulsi di ok ci sono delle case che producono videogiochi queste case hanno dei capi saliamo 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 andiamo a vedere i capi di queste case i capi i capi del sistema chi ha deciso proviamo non solo col cinema ma anche con i videogiochi e l'industria dei videogiochi è più grande di quella di cinema come mi sembra che ci siano dei giochi che vanno anche alle olimpiadi o comunque delle gare no ma al di là di quello giro d'affari sport certo il giro d'affari è superiore a quello di hollywood e del cinema la cosa incredibile nessuno ci pensa perché tutti pensano vabbè sono gadget no videogiochi sono una miniera d'oro ma di là dell'aspetto economico chi ha deciso di crearli in questo modo e di non creare per esempio dei videogiochi che stimolano le frequenze che stimolano la creatività che aiutano il percorso potrebbero essere inventati dei videogiochi del genere esistono nella matrix dei videogiochi del genere da qualche parte i primi i primi erano stati sviluppati per appunto per stimolare un po la le capacità soprattutto dei bambini no era come un aggiunta alle lezioni classiche tra virgolette no era come un'idea per stimolare la curiosità dei bambini ma è durato pochissimo pochi direi dopo sei mesi che questi giochi sono stati inventati buttati fuori chi li ha inventati è stato interferito e poi da lì tutto è partito in maniera diversa pian piano hanno proprio cambiato tutta la modalità ok chi chi ha deciso i videogiochi in questo in questi termini chiamiamolo sia l'essere umano che all'entità se romano vedo un tipo biondo con gli occhi chiari anni direi intorno 85 più o meno 1985 l'entità l'ho già visto prima è è un demone però come se fosse un demone felinoide due è una cosa unica così hai unito se un demone fermi e filinoide assieme all 85 n biondo con il nome dell'uomo e nome del felinoide demone no l'uomo non era 85 n era nel 1985 non si sente meno joshua se che era scrivo t h n k e r e poi mi hai detto scusa le entità come si chiama tristan ok che è proprio un nome da videogioco vibrazione di roberto a oggi ea cinque anni già scusa cinque anni ea oggi tutti i valori te li chiedo a cinque anni e oggi cinque anni era 25 miliardi oggi a 27 milioni stessa domanda consapevolezza 190 per cento 125 per cento psp è solo oggi anche anche all'epoca ma che c'è vita precedenti in generale anche se cambiano pure quel 2125 e cervello prima e dopo 9,5 8,9 gusti bene chiamiamo tutte le interferenze e teri che le vediamo così sfilare davanti a noi e le mettiamo come quando si fanno gli identi kit del dei polizieschi americani ti entità e teri che io vedo sono tristano è come se si fosse accaparrato tutto il pacchetto si edl allora ce ne sono cinque e ce ne sono tre che ogni tanto fanno spola nei gatti ok ci sono otto gatti chiamiamoli nel cinema chiamiamo anche la madre non si so mai anche se la madre poi avrà un percorso a sé tra qualche giorno settimana e entità mentali se entità mental ce ne sono tre analizziamo le livello se vuoi nome e compito partiamo dalla prima però di livello 2 è quella che lo rende sempre che fa sì che le sue vibrazioni rimangano sempre uguali no quindi l'apatia diciamo mantiene la sua apatia quindi se diciamo c'è un pensiero positivo glielo ritira giù subito quasi non fa neanche il tempo accorgersi di sempre l'iguale nessuna emozione ecco poi c'è livello 3 che lo blocca quando fa le cose fa fa sì che ci sia sempre qualcosa che fa sì che lui non faccia più le cose no cioè quando deve fare una cosa la livello 3 la boicotta eh sì in un modo nell'altro la boicotta e poi c'è quella l'entità di livello 6 che è quella che ha sempre con la bocca direi sempre collaborato con il programma di trista annullamento e annullamento insomma un canale un canale lamento c'è a che fare coi giochi quindi prima invece era quando lui inizia a far qualcosa e andava sempre male no drasticamente male ma le sue emozioni erano negative quindi facevano sì che smettesse di fare stessi cosa iniziasse per poi in canale metto in canalarlo proprio adesso no programma annullamento esiste un'antica mentale collettiva game se si dove come la vedi vedo solito tipo discono tipo una navicella forma e quello un po di una navicella non è una navicella ma la forma è quella energetica e la vedo appunto questo livello dove ci sono tutte queste entità mentali collettive la vedo molto molto grossa rispetto ad altre molto molto potente come si chiama live game live game se ok va bene la mettiamo lì poi ci pensiamo dopo registri a casici se ci sono avevo già visto prima c'è proprio come se fosse un luogo energetico lettere non lo vedo sul blu 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 azzurro dove ci sono alcune formazioni che sono pure e altre che invece sono informazioni messe apposta per per chi fa le letture a casiche a casiche diciamo che è un c'è questa interferenza che ha inventato questi registri a casici ok e quindi questa interferenza interferisce su questi canalizzatori persone che canalizzano tramite registri a casici ok per farsi un po come quando vediamo magari un libro che ti dà delle informazioni ma te le dà in parte poi altre invece sono un po manipolati no esatto lo stesso meccanismo però in un luogo eterico energetico quindi le informazioni accede alcune formazioni sono vere e lo fa perché soprattutto all'inizio perché almeno la persona prende fiducia no perché sono cose che sa questa entità sa che si avvereranno no e quindi le dice le fa dire e poi ne dà altre per deviare persona più che deviare per prenderla statica ok quindi se tu se io ti dico tu sei così c'è scritto la in tutti adagi esa implica che non può essere diversamente già scritto così i registri ma la storia un po sempre la stessa praticamente se tu ti affidi e ti dedichi a un qualche cosa smetti di fare il gioco per cui sei venuto paradossalmente anche queste sessioni di più nostri teniti diciamo delle cose e tu ci devi credere ti devi adagiare no in realtà noi non diciamo tu devi adagiarti perché sei stato che ne so guerriero e quindi se nella nel percorso dell'essere guerriero noi ti diciamo come stanno le cose qual è stato il ventaglio di tutte le tue esperienze che ti sarà detto è talmente ampio che non porta da nessuna parte di fatto tu ti rendi conto del meccanismo inganno contratto entità che creo io e quindi il gabbia mento e la risultante è fatta e la tua esperienza consapevole senza consulti di registri analizziamo però questo consulto lui ha fatto consulto punto una lettura e si chiedeva se cambiano delle cose perché alcune questioni che le sono state dette l'hanno colpito alcune non tutte l'hanno colpito profondamente anche commosso lui che si ritiene un non emotivo cioè un emotivo ma che non si fa a toccare da tanto facilmente dalle cose diciamo che è un meccanismo che è stato usato sapendo che lui viene mantenuto in questo stato di apatia volontariamente ma che in realtà lui le emozioni quando le prova le prova profondamente hanno giocato tramite appunto i registri akashic per farlo emozionare no quindi hanno fatto un compromesso con la sua entità ok quel momento lì fargli provare emozione così almeno lui crede completamente a quello che gli è stato detto il loro obiettivo era quello poi però abbiamo roberto che si fa le domande quindi dice ma andiamo a vedere se proprio così ok però il loro obiettivo era incastrarlo sì di chiuderlo in uno schema sì ma questo vale per tutti in realtà sì infatti quello che io vedo in generale dei registri akashic è che le informazioni che ti arrivano su diciamo che ti danno informazioni dinamiche su una possibilità su un aspetto creativo della persona comunque possibilità dinamiche sono quelle reali tutto ciò che arriva come formazione statica quindi è scritto così e così è non sono reali sono interferite vedo questa differenza quindi le dinamiche sono reali le stati che sono preferite quindi se tu sei nato così e così dovrai restare una statica esatto scusa un attimo caduto roberto successo a che è successo roberto ok a un calo di tensione qual è la causa di questo calo di tensione che ha fatto cadere roberto due secondi è un'informazione molto molto valida bene chiamiamo nel cinema oltre agli otto gatti tutti quelli che fanno le letture a casi a casi che tutti quelli che se ne sono fatte fare tutti quelli che dipendono assolutamente dal registri tutti quelli che abitano alla cassa dov'è la cassa dov'è la vedo in piano abbastanza basso come locazione no per le lettere per il cosmo qualche vuoi non avendo tipo qua così cito proprio come se fossero c'è quello che fanno apparire a chi canalizza è come se fosse proprio una biblioteca antica quindi quello che appare come immagine è tipo una vecchia grotta che ha l'energia blu azzurra e dove ci sono proprio questi piccoli anfratti dove ci sono dentro dei proprio dei libri e questi sono i registri dove ci sono le vite di tutti niente continuano i cali di tensione e questo sarà un grosso problema per me aspettiamo con un attimo roberto vabbè andiamo avanti vediamo a lui perché figurati avrà una connessione super infatti vediamo gli impianti 13 e se ci sono mentali allora ti descrivo quello mentale perché lo vedevo già prima anche se forse c'è già rocce roberto no allora dopo lo vedrà allora questo impianto mentale è come a tipo due impianti sulle orecchie come se fossero due perni ok e poi tutto un casco intorno al cervello di roberto con anche un piano sotto quindi tutto un rivestimento del cervello ok che manda impulsi molto frequenti e forti tra i due perni e tutto nel casco ok quindi all'interno del cervello ed è quello che lui sentiva prima sia il mare alle orecchie acufeni che tutti quei mal di testa cioè vedevo proprio mentre parlava che gli mandavano degli impulsi forti e lui lo sentiva le palpitazioni anche aspetta no perché le palpitazioni riguardano altri impianti allora allora qua un impianto ok adesso è chiaro allora quando era piccolo gli ha quando è nato gli hanno messo un impianto a livello dello stomaco alla fila scusa un attimo che esattivo io microfono guai perché è tornato roberto questa cosa che è caduta la linea vai a un impianto allora quando è nato gli hanno messo un impianto tra lo stomaco l'intestino quindi più o meno zona duodeno lì sotto poi col tempo con la sua consapevolezza è come se avesse disattivato questo impianto no quindi per loro quello non era più efficace e po di anni fa gli hanno rimesso hanno come potenziato l'impianto quindi con l'impianto di poi gliel'hanno ingrandito e lo vedo molto grosso e da lì sono nati problemi gas intestinale tutti il dimagrimento e palpitazioni anche anche se allo stomaco le palpitazioni sono come se fossero ma anche i dolori e come se fosse una sua cercare di contrastare gli impulsi che mandano a livello attraverso quell'impianto come se la ps volesse qualche modo da una parte cercare di contrastare livello energetico quindi lui sente sintomi dall'altra rendere roberto consapevole che c'è qualcosa lì ok e poi durante l'abduction che ha avuto poco tempo fa ne hanno messo l'impianto a livello del pube per vedere se con quello riuscivano ad aumentare le loro interferenze visto che allo stomaco c'è il contrasto della ps molto forte poi e poi ne vedo due sui dorsi del piede nei piedi a che servono servono per per mandare gli impulsi dal dal impianto mentale fino a terra quindi attraverso tutto il corpo che mandano da lì a fino a tutto il corpo sono più che altro quando devono fermarlo se lui fa qualcosa di fisico si allena o esce mandano questi impulsi che fanno sì che lui si blocchi un po quello che fa l'entità di livello 3 ci sono anche impianti mentali quindi quello la grosso il casco se lo rivedrai spiegato nella registrazione comunque un grosso casco in testa legato anche all'acufene giusto se ok causa tecnica dell'essere sfaticato è l'entità di livello 3 della patria anche la patria livello 2 si a 2 non felice l'identità di livello 3 ne abbassa proprio le frequenze per far sì che lui non faccia le cose ok se c'è causa tecnica del suo essere vegano ed eventuali implicazioni con il problema colite no no non c'entra niente assolutamente non c'è nessuna causa esoterica anzi vedo che è come se c'è tutta una parte medica c'è tutta una parte di informazione medica che è interferita in generale quindi alcune formazioni vengono gestite rispetto a a come deve essere gestita la persona che si rivolge alla medicina quindi in questo caso era comodo e la efficace dire che la dieta vegana è quella che gli provoca i sintomi perché per loro era necessaria questa cosa sempre per abbassare le vibrazioni tenerle basse c'è un'altra cosa che fai che non va bene ok quindi tra frate privato un gatto bellissimo causa esoterica dell'incidente al ginocchio destro che è stata un po il motivo per cui lui si è fermato faceva parkour faceva sport e si è dedicato si è seduto sul suo sulla sua sedia da gamer ed è iniziato a passare la sua vita di otto dieci ore al giorno se capita il giro giusto diciamo non necessariamente tutti i giorni ma 8 10 ore la vita lavorativa coincidente di faceva parte del progetto in canalazione o che hai fatto dall'entità di livello 6 in collaborazione col ferinoide demone e serviva apposta per tutte le volte che faceva qualcosa gliela facevano stoppare ok per poi arrivare a metterlo lì al programma al progetto annullamento è quella lì la goccia che ha fatto traboccare il vaso e finalmente sono riusciti a metterlo davanti allo schermo per tante ore per programmarlo poi c'è un impianto al ginocchio no no non è servito no no causa te ricca dei suoi diciamo allontanamenti litigi con gli amici dai quali lui si è allontanato in maniera definitiva perché si definisce molto sensibile quindi preferisce non certo il confronto quanto l'allontanamento definitivo scompare insomma sempre sempre gestita dall'entità di livello 6 e dalla demone ferino qualsiasi azione che lo possa allontanare dal dall'essere programmato da uno schermo viene annientata dall'entità di livello 6 e la trista ok ricorda l'addition ricorda una in particolare dove ci sono i grigi che fanno delle cose lui resta calmo e poi sente una forte energia intorno al pub e al secondo chakra quello del sesso emozioni forti paralisi paralisi non si può muovere è una d'action la ricorda se se si sia una d'action ed è quella in cui li hanno messo l'impianto l'altro impianto che conteniamo scusa quanti ne ha di abduction fatte 80 da quando dalla nascita sì sono anche tante no 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 perché questo numero non cadenza mensile ma un numero complessivo perché lo facevano non come programma c'è del progetto non fanno parte le abduction ma se se serve l'abduction per un motivo cioè se nel loro progetto va tutto come loro imprevisto non servono le abduction altrimenti se c'è qualche contrasto da parte l'aps o della persona no che fa qualcosa che contrasta la loro via allora fanno un abduction per vedere se si tromare qualche maniera o mettere un impianto o ci c'è in un'altra maniera comunque in canale energia in modo diverso abbassare le frequenze con sì in quel momento e l'ultima che ha avuto dieci giorni fa questo lo vedo abbastanza in generale ogni volta che quando una persona prenota una sessione da noi inizia già in quel momento ad alzare le vibrazioni già solo l'atto di prenotare fa che le vibrazioni si alzino un pochino no perché poi c'è tutta già l'azione quindi il fatto che tu sa che la ps fa sì che tu faccia un'azione per cambiare la via ok ma sì che le tue vibrazioni si alzino un po quindi loro quasi se direi sempre fanno qualcosa per abbassare le tue vibrazioni quindi a seconda della persona possono che ne so qualcuno gli creano problemi in casa ad altri fanno litigare con persone ad altri fanno andare male la connessione ad altri fanno delle abduction per abbassare le vibrazioni a lui hanno fatto andare male la connessione da poco poco fa e mi scriveva che non è mai successo infatti si sia stato io adesso sempre questi qua che gli ha fatto l'abduction e sono io direi i soliti il solito gruppo di militari che passano solo triste no no sì esatto il fatto c'è quello che riguarda le chiamazioni è una roba sì 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 a cui riguarda noi siamo ali voglio vedere il capo chi è non c'è un capo perché li buttiamo sempre via da fare uno nuovo qual è il capo dei capi perché non riusciamo a buttarlo via cambiano tutte le volte cambiano capo c'è il capo di questi capi che cambiano è uno della famiglia io vedo sempre che questa roba la presa in carico tra virgolette una parte della famiglia rock shield certo non solo noi ma questi tipi di progetti no che risvegliano la consapevolezza ok a ognuno dei membri compreso questo qua a cui stato dato questo incarico una d'eterno ma all'esterno loro se sono a posto se soltanto della dell'energia che regaliamo loro se non sono a posto sono cazzi amari a ognuno saremo sbruffoni saremo che ce la pensiamo e ce la crediamo ma non facciamo altro che dare dell'energia vediamo cosa succede vedo proprio che c'è tipo un questo qua lo vede li vedo sempre nel regno unito ma quindi secondo me era inghilterra scozia una lì e vedo come se ci fosse una linea no quindi ti passa parola ci sono varie persone dal più alto a quello con come lo potere meno potere fino ad arrivare ai soldati che ci mandano proprio a fare l'azione che vedo proprio in questo momento avendo messo una d'eterno intorno a tutti loro vedo come una striscia di vibrazioni altissime che parte dalla e arriva fino a qua e fa così passa per inghilterra il pezzo di francia poi germania soprattutto per scende giù svizzera di acqua tutti quelli che hanno operato comunque in questo calo di tensione di due volte vanno in un portale dell'oblio subito come promesso io mantengo sempre le promesse è già stato detto e ridetto se continuano a farlo è loro responsabilità sono loro che lo fanno per loro stessi ci si può sempre di mettere un ordine che non si condivide e se poi loro hanno deciso come vedere quello di fare burattini cioè i militari a me non interessa assolutamente io voglio una connessione stabile e lavorare in pace quindi se tu interferisci con me io ti rispondo a dovere respirazione da diaframmatica porta interferenze al caso gioberto allora c'è stato un momento c'è un momento in cui la fa è come se vedo mentre la fa ok all'inizio i primi respiri finché è solo meccanica va benissimo poi arriva a un certo punto che sente come se diventasse diventasse energetica non so vedo questa cosa e appena diventa energetica l'entità che soprattutto quelle mentali che gli interferiscono gli abbassano le vibrazioni la ps se ne accorge reagisce e lui sente male ancora più male quindi in questo caso ok quindi lo aiuta la respirazione se lo aiuterebbe molto molto anche a togliere il dolore e il prendersela in modo smudato quindi litigi con gli amici compagni di parkour e poi lui è quello che scompare che non risponde evidentemente più telefono ai messaggi causa di questo atteggiamento un po un po manicheo un po definitivo un po se mi permette roberto con tutto rispetto un po infantile per dire quella cosa lì non è tanto una parte esoterica ma è un po non essere mai stato abituato secondo me a prendersi la responsabilità delle sue azioni e prendersi prendersi prendendosi la responsabilità delle sue azioni della sua vita lui scoprirebbe che se affronta anche in maniera pacifica comunque in modo no affermativo disse le cose le azioni scoprirebbe che non succede niente di grave che comunque lui non sarebbe in pericolo che anzi potrebbe trovare qualcosa di costruttivo là fuori che invece ritirandosi proprio non avere l'abitudine la propensione esatto la propensione non io vedo proprio che come se non gli è mai stato permesso anche da bambino di farlo e quindi lui non sa non sa cosa succede no un po timoroso di quello che può succedere ma in realtà scoprirebbe che non succede niente di pericoloso il suo corpo emozionale cosa è composto nel bene nel male cioè alte basse frequenze io vedo che fin da bambino lui riusciva a comunicare quasi direttamente con la sua ps ok quindi lui sentiva quello che lui sente quando sente tanto le emozioni e proprio la vibrazione della sua ps ok e se lui avesse assecondato questa cosa in varia in vari modi e quindi magari la cosa lo spaventava magari poteva rientrare un po trovare un'altra via così se lui avesse assecondato questa cosa sarebbe diventato molto consapevole e molto forte con la sua ps e per questo è stato interferito perché sarebbe stato troppo per l'entità dovevano per forza abbassare questa cosa e quindi vedo che potenzialmente c'è uno spazio di vibrazioni molto alte quindi emozioni molto belle molto alte molto che vibrano alte tipo scopra qua ok che separa che in questo momento è vuoto quindi c'è un ipotetico spazio per le vibrazioni altissime vuoto separato quasi come se ci fosse una cosa fisica un muro ok che può essere rappresentato dal diaframma quindi se lui allena molto diaframma per quello che volevano fermarlo perché allenando molto diaframma lui avrebbe aperto questo spazio quindi l'energia pesante delle vibrazioni delle emozioni delle vibrazioni basse delle emozioni negative dolorose che sono sotto sono molto forti grandi ora si sarebbe riequilibrato con queste vibrazioni altissime e sarebbe tornato a riuscire a comunicare con la sua ps come faceva quando era bambino e per quello che quando lui allena il diaframma cercano di bloccarlo va bene tutti quelli che giocano ai videogiochi sono nel cinema quale percentuale si è presentato un 25 per cento i gatti ci sono dati se la madre c'è se insegniamo a roberto a crearsi una d'eterno ma e offriamo gli una vic vibrazione informazione consapevolezza e poi ti faccio una domanda elena esiste una linea temporale parallela e cui c'è roberto così come oggi in cui sono state prese delle decisioni diverse e roberto non sa neanche cosa siano i videogiochi se non c'è la creiamo la simuliamo simuliamo una linea parallela in cui roberto quel giorno in cui in questa linea temporale ha scoperto i videogiochi in quella linea temporale non li ha scoperti ha scoperto qualcosa che l'ha appassionato e l'ha messo in comunicazione con la propria anima prima immagine che mi è arrivata allora nel momento in cui io sono andata nel momento in cui si è fatto male al ginocchio ok che quello club si potrebbe andare anche prima però ho iniziato da lì si fa male comunque al ginocchio ma nel momento in cui lui deve stare fermo inizia a interessarsi un po alla potrebbe essere tipo feng shu è una cosa del genere così partendo da lì un po l'interesse verso la cultura giapponese antica una cosa così è un certo punto vedo che quando gli passa tutto il male al ginocchio lui inizia a lo vedo in questa serra prima piccola poi diventa molto grande dove inizia a coltivare e tenere piccole piantine che potrebbe che poi diventano bonsai no quindi tutto ciò che riguarda le piantine e i giardini tipici giapponesi si appassiona proprio alle piante giapponesi e come se poi crea una serra solo di piante giapponesi e di attrezzato giapponesi quindi questo è un qualcosa che può aiutarlo sia nell'abito dell'interesse personale che quello lavorativo la botanica con un taglio preciso specifico esatto che vabbè magari di bonsai ma però qualche modo sono composizioni anche le composizioni fuori reali che hanno tutto dietro tutta una roba lavorazione sì oppure piante aromatiche oppure le piante curative non so c'è comunque esatto molto nello specifico che si fa lui da dalla terra c'è partendo dalla terra proprio va bene va bene diamo le informazioni di tutte le nostre sessioni ai gatti vediamo cosa fanno da soli disarmonia irrequieti 8 sui 8 ce ne sono tre che in questo momento hanno gli edl quelli che che fanno spola dai gatti a roberto ci sono gli altri che sono tutti contenti e questi tre che sono contenti ma sentono questo fastidio dentro alle vede come se se lo vogliono tirare fuori ma fa fatica no quindi vedo il dl che esce poi rientra esce di perché la forza della consapevolezza è molto forte però nel gatto in questo momento riesce a fatica a contrastare ok cosa fanno i gatti allora ho dato però to dagli la vick che i gatti a quei tre gatti li e sono riusciti a buttare fuori i 3 dl ok gli altri sono puliti gli altri sono puliti erano sereni contenti si molto ma stanno lì a guardare la sessione tutto quello che è venuto a trovare roberto era con ossigenza di l senza va bene e roberto cosa vuole fare roberto vuole andare al cluster è arrivato il nonno nel frattempo prima ok sentiamolo il nonno che abbiamo chiamato un po in extremis paterno si interna giusto materno 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 è arrivato gli ha dato una carezza e gli ha detto ok adesso io posso andare sereno basta solo questa cosa qua ho visto ok portale aureo e via e se ci sono disincarnati nella casa nelle proprietà nei posti che frequenta da roberto li chiamiamo tutti sperando che si presentino tutti sono arrivati una decina sono una decina erano in casa no 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 io visti un po fuori nei posti dove lui ti può allenarsi poi non erano tutti fuori nei posti dove lui va andava generale l'intorno erano legati a quei posti più che a lui ai posti ok e salutiamo e via quindi 10 più 11 ok sono entrati allora abbiamo visto abbiamo visto come nelle interferenze le solite cose le vibrazioni abbiamo visto un roberto in una vita parallela inventata dove dopo l'incidente prende un'altra strada possiamo dire che nel caso di roberto e forse nel caso di tutti i videogiochi sono una distrazione i videogame sono una distrazione barra droga creata ad hoc per sviare l'essere umano provvisto di anima dal proprio percorso quindi non sono giochi perché la parola gioco assolve assolve trappola infernale sarebbe un po più corretto ma non è game la traduzione di trappola infernale oppure trabocchetto ben nascosto oppure progetto abilmente creato perché possiamo possiamo faccio anche una risata su questa portata di tela di te della definizione che sto dando di videogame ma è questo quello di cui stiamo parlando ora roberto non è con le pezze al ma ci sono ragazzi con le pezze al ragazzi che sono alla stregua di un vegetale ragazzi che non avranno mai più un lavoro perché nessuno assume dei matti schizzati che vivono fuori dal mondo dei ragazzi che non hanno mai una vita sentimentale non l'avranno mai dopo anni passati davanti allo schermo di notte ragazzi che perdono la salute perdono tutto il progetto infernale è anche debole come definizione anche buona come definizione infatti fate molta attenzione quando iniziate a vedere che vivete sopra una poltrona da gamer e avete il sudore che ormai è un tutt'uno con le cuffie c'è qualcosa che non va e forse occorre un cambiamento drastico immediato definitivo questa la parte del nonno noioso ma occhio ricordiamo il progetto è annullamento e roberto è pericoloso ecco perché l'hanno bloccato in questo senso perché è pericoloso perché è nato con 25 miliardi esatto ed è stato tirato giù a 27 milioni facciamo 25 milioni mille volte va più basso non erano milioni miliardi 30 mille volte l'hanno tirato giù di mille volte i mille gradi non due uno due che già grave mille quindi un bambino eccezionale un bambino destinato a non lo so la musica al canto la pittura la l'ingegneria la scienza quella vera la ricerca che si è finito a rifugiare i mondi virtuali di orchi di draghi di maghi di harry potter di pozioni di armi di monete da affaticare a conseguire conseguire confatti con fatica per avere l'arma più potente di falsi di false sfide di falsi trofei o sono riuscito più di quel mio amico in canada che manco so chi è e che magari non è neanche un uomo ma è una donna e non è neanche una bambina ma è una donna di 90 anni ovviamente non è così avatar personaggi dietro i quali si nascondono altri personaggi e il mondo virtuale così questa è il sermone questa è la predica però è anche la visione che abbiamo noi qui oggi in questo caso qual è una vita completamente all'opposto delle sue 2125 una di una chi andata come il bambino che vibrava 25 miliardi lo vedo da sempre uomo e lo vedo che è proprietario di una grande distesa di campi appena dietro al mare quindi da dove sta lui vede anche il mare questa grande capacità di far crescere tante cose nei campi in maniera molto come se sapesse tutte le volte cosa voleva la terra quindi che comunicava sape esattamente come far sì che la terra producesse in maniera molto fluida senza ostacoli in ogni momento in ogni con ogni intemperia in ogni momento dell'anno senza vedo che non c'erano riservanti cose così quindi abbastanza tanto che quindi di nuovo una vita a contatto con la natura se va bene andiamo al cluster ok vedo tante ampolline piccole seconda di quanti contratti a quella vita più o meno è meno più che l'ampolla più piena o più vuota fatto vedere come aprire il portale definitivo c'è l'ha aperto lui no però via tutto se un ad eterno un qua dentro ok l'ho messo andiamo all'avanzare quello nostro non quello dei videogiochi come lo vedi normalissimo l'ha segnato di fermo sulla serie mobile normalissimo cioè classico c'è classico vestiti manichino messo così portazione con le mani sul tavolo seduto bloccato frizz e si frizzato bene cosa vuole fare roberto andiamo facendo il portale definitivo e c'è l'ha lanciato tutto dentro adesso era chiuso e ha creato già le darla d'eterno da mettere cioè facciamo le due cose contemporaneamente creava e prima portale ma appena l'ha chiuso l'ha creato ha creato bene torniamo di qua e creiamo altri 5 come sempre nel corpo fisico lo può mettere in un punto preciso del suo corpo fisico magari a livello stomaco intestino corpo emozionale quella emozionale dove abbiamo visto tutta una serie di emozioni mentale dove c'erano correggimi se sbaglio le influenze di tre entità mentali evidentemente anche una connessione con un'entità mentale collettiva live game e eterico subliminale cinque soli più 27 fatto ci sono ancora connessioni con i cinque più tre di l iedl di gatti tristan programma annullamento incanalamento entità mentali ed entità mentale collettivi collettive barra e gregore come vorrebbe dire qualcuno ok creiamo noi insieme a roberto tutte e tre insieme un enorme ad eternum da lasciare nell'entità collettiva mentale collettiva life game fatto che succede si è scretolata da sotto se come se fosse un fungo che quando è diventato troppo asciuzza che dopo un po come se cade a pezzi no ecco così da sotto e quanti ne risentiranno di questa mancanza di gregora e gregora game cioè nel senso i gamer del mondo smetteranno di giocare da adesso in poi no però in questo momento mentre si è allora è come se l'entità mentale collettiva si si ricreerà quale no c'è la memoria di quelle energie di ma in questo momento è stata dissolta quindi finché l'energia di tutti che di tutti i gamer non si rimette assieme non c'è quindi ci sarà un momento dove si sentiranno tutti molto slegati quindi magari qualcuno continuerà a giocare per abitudine qualcuno riuscirà a prenderla come occasione per staccarsi così e quindi quelli che riusciranno a staccarsi sono un bel sono un bel 20 per cento vedo a livello mondiale gli altri con l'abitudine poi ricreeranno non ho mai schiene quindi però un bel terzo è fatto 20 per cento sono milioni di persone si infatti è buono bello vanno somme se milioni no ma ben similioni decisamente il mercato è veramente vasto va bene nuova vibrazione e in questo momento a 100 miliardi ottimo nuova frequenza scusami nuova consapevolezza 210 vite precedenti mille due circa la metà poco di più psp 60 40 cervello 9 e mezzo tecniche per aumentarlo lo chiediamo alla sua ps allora continua lavoro sul diaframma perché è essenziale è senza sarebbe essenziale per tutti la respirazione diaframmatica è quella che mantiene l'equilibrio energetico fa lavorare meglio a livello fisico i polmoni e mantiene l'equilibrio energetico il passaggio proprio delle vibrazioni ovunque e poi inizia ad avere contatto con la terra quindi inizia ad andare tutti i giorni proprio a sentire la terra e poi a fare sentire le diverse terre quindi la spiaggia poi magari in un bosco poi magari in un campo ok vari tipi di terre poi vai proprio a scoprire cosa c'è intorno e con questo io e te entreremo in contatto come quando lo facevamo con del bambino e ti arriveranno tutti i vari passi da seguire non c'è bisogno che io ti dica adesso cosa devi fare questo devi fare e poi dopo arriveranno le informazioni ti arriveranno proprio fluide basta che tu le segui e ogni volta un'altra cosa deve dire quando incontrerai le altre persone e sentirai come se ci fosse dell'astio o uno sconto non cascarci quello è solo una la provocazione delle entità per cercare di interferire ti nuovamente tu fai come se quella personalità abbia detto qualcosa di carino in un tono carino ecco come lo vedi lo vedo come se volesse andare a correre vestito con un tenuto da corsa cioè pronto per andare a correre proprio per uscire dinamico no quindi proprio dinamico contrario di prima con queste nuove condizioni la sua vita sarà tutta di sorrisi gioia persone che lo voglio vogliono bene che lo aiutano colpi di fortuna a porte aperte zero difficoltà zero interferenze allora se rimane con questa vibrazione lui potrà fare tutto cioè gli verrà davanti esattamente quello che gli piace fare qual è la via tenteranno spesso di interferirlo ma se lui rimane centrato così se ne accorgerà subito e tutte le volte e riuscirà a tenerle fuori deve proprio allenare col diaframma e stando a contatto con la terra il contatto con la sua ps ma ci saranno attacchi cercheranno di ripetere cercheranno sì 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 questi 100 miliardi daranno fastidio non gliene fregare niente nessuno è no danno fastidio c'è meno persone sono consapevoli più facile per loro ok questo è un periodo dove molte persone si stanno risvegliando domanda la ps di roberto perché 100 e non 200 obiettivo nuovo 200 miliardi quando come allora se lui si centra e allena questa cosa diaframma e terra lui può scegliere può farsi gli obiettivi da soli da solo dice la ps può arrivare anche a volte a picchi di mille miliardi non può rimanere lì come tutti perché sulla terza per la vita sulla terra stare troppo stare con le vibrazioni troppo alte sempre non è compatibile ok però fa respeto spesso picchi si e può arrivare anche a mille miliardi lui si può fare l'obiettivo che vuole e lo sentirà proprio se lui continua a lavorare sul diaframma e con la terra e a contatto con la terra lui può mettersi l'obiettivo vibrazionale che preferisce raggiungerlo va bene pronta a tornare disconnettiti da tutto e tutti e noi torniamo